buonasera sono sempre il dottor tascione sono qui a darvi il consueto e giornaliero aggiornamento della situazione dell'antoniano di lanciano oggi purtroppo abbiamo avuto una notizia che una nostra ospite non ce l'ha fatta a chieti è deceduta dopo il ricovero e mentre qui la situazione dell'istituto in questo momento ha un momento di relativa tranquillità nel senso che abbiamo alcuni pazienti con una sintomatologia comunque respiratoria ma non severa domani andremo a ricontrollare tutti i pazienti che manifestano un minimo di desaturazione o di tosse o di febbre e quindi siamo tranquilli relativamente perché capiamo benissimo che le condizioni di questi nostri ospiti di questi nostri anziani possono purtroppo mutare da un momento all'altro noi speriamo che le cose possano procedere nel migliore dei modi stanno tutti facendo la terapia la terapia seguendo i protocolli covid e continueremo così pertanto io vi auguro buona serata